Si è tenuta presso la Biblioteca Civica di Pordenone una cerimonia di consegna dell'Ascito Testa, un nuovo fondo che andrà ad arricchire il patrimonio della stessa biblioteca. La Biblioteca di Pordenone si arricchisce di 250 nuovi volumi proprio nelle giornate di Pordenone Legge. Questo grazie a Giulio Cesare Testa che è stato un grande studioso ricercatore intellettuale, uomo di cultura pordenonese, che ha voluto donare i volumi della sua preziosa biblioteca. Pordenone è una città culturalmente generosa, non solo perché è culturalmente ricca, ma anche perché i suoi protagonisti, i protagonisti della cultura, hanno voluto e vogliono donare alla loro città la loro ricchezza. Oltre a questa donazione, ricordo quella dell'Ascito Bortolotto che stiamo catalogando, e anche quella di Cairo Lee Price. Tutti i volumi che arricchiscono la biblioteca, che diventa anche sempre di più centro culturale, vivo e attivo. La donazione dei libri appartenuti a Giulio Cesare Testa consta di circa 230 volumi, tra cui predominano le opere inerenti arte e storia, particolarmente quella locale. Accanto ai testi sulla Via della Seta, l'Oriente, Marco Polo e Venezia, spiccano alcune opere, di cui la nostra biblioteca era sprovvista, sul Beato Dorico da Pordenone e padre Marco Daviano. Sono felice per questa donazione alla biblioteca, questi bei volumi, tanto studiati da Giulio, che lui amava e soprattutto amava questa città. Quindi grazie Giulio per tutto quello che ci hai lasciato. Io ne sono veramente orgogliosa. Grazie.